daniele vorrei sapere il tuo parere dei registri akashici cinzia l'unica volta che ho avuto contatto con questo era una puttanata pazzesca nel senso che quando siamo stati allora c'è in india un luogo dove ti leggono il futuro e dicono che sono estremamente perfetti c'è stata anche una puntata di mistero focus boh non mi ricordo dove si parla di questo luogo siamo andati lì o meglio non sono andato esattamente io sono andate due persone che poi mi hanno dato le registrazioni usano linguaggio ericksoniano usano linguaggio ericksoniano e e fondamentalmente fanno dei finti indovini cioè ti capisco nel passato lo sono dei bravi letture sono dei bravi lettori a freddo nel senso che conoscono bene la tua comunicazione non verbale usano molto l'ipnosi ericksoniana usano molto il linguaggio ambiguo poi col fatto che su indiani traduco non si capisce bene una cosa un'altra alla fine sembra cioè tu hai la percezione la finta percezione che loro abbiano indovinato tutto di te in realtà gliel'hai detto tu hanno soltanto una buona memoria leggono le foglie di cos'è le foglie di banana non mi ricordo e poi cosa fanno convincendoti che t'hanno detto esattamente qual è il tuo passato ma che in realtà non è così perché dovete ricordare una cosa la mente umana distorce fino al 50 per cento delle cose ascoltate è stato fatto un esperimento è stato fatto un esperimento e hanno preso due persone con dei grossi con dei grossi preconcetti uno verso l'altro e li hanno messi assieme a parlare ok dopo di che hanno chiesto ognuno di loro che cosa ti ha detto l'altro e questi hanno detto che cosa gli ha detto dopo di che gli hanno fatto rivedere la registrazione e si sono resi conto che l'altra persona gli aveva detto cose totalmente diverse quindi sempre per il solito concetto che ognuno vede quello che ha nella testa quello che vuole vedere quello che si aspetta di vedere dobbiamo comprendere che noi riusciamo a stravolgere fino al 50 per cento di quello che vediamo che ascoltiamo di fronte a noi per adattarlo ai nostri preconcetti questo è questo è una delle basi su cui si fonde il mentalismo il mentalismo non è tanto importante il risultato del gioco che ti fa lì è importante la falsa memoria che ti lascia ci sono persone convintissime che hanno visto davanti ai loro occhi il mentalista il mago di turno che gli ha piegato il cucchiaio la forchetta senza neanche toccarla non è vero avete un falso ricordo vi è stata impiantata una falsa memoria proprio il concetto dell'impiantamento di una falsa memoria può essere usato in maniera molto più drammatica molto più pesante ecco perché vi dico attenzione con l'ipnosi perché se lo fa un mago per farvi ricordare una cosa che non è mai accaduta se lo fa uno coi registri akashici per poi venderti il rituale di lasciare andare i morti o i mille mantra che ti ripete lui basta che lo paghi va fregato quindi ecco perché dico più cose conoscete meno ve fate fregà in questo il principio di fondo la conoscenza vi aiuta a farvi fottere sempre meno fottono uguale però sempre meno ok grazie a tutti grazie a tutti